Serie A, Empoli Juventus 41 la notizia Emoli gode della salvezza e celebra di fronte al suo pubblico con una vittoria storica. Juventus viene battuto 41, dominato lungo e largo per lunghi tratti una partita che ha iniziato salita il bianconeri, anche prima di iniziare con la penalità di 10 punti. Abbiamo giocato in una situazione surreale, con la sentenza è arrivata un quarto d'ora prima della partita. Ora dobbiamo tacere e accettare la sconfitta. Ma voglio dire una cosa è chiaro che abbiamo nei 69 punti di campo, ha detto Massimiliano Allegri a Dazon. Agenzia Ansa in eccesso 10 punti penalizzato Juventus, è ora fuori dall'Europa giudizio di calcio del Tribunale FIGIC dopo il rinvio del College di Garanzia. Happy 7 Juve manager, bitterness nel club e i milioni di fan calvo. Non siamo soddisfatti, valutiamo l'appello la Juve non è mai pienamente in gioco, ora settimo e fuori dalle tazze punto la Juve appesantita dall'eliminazione della Europa Liga Siviglia poi dalla decisione di giustizia sportiva, è arrivata a pochi minuti dal fischio iniziale. Caputo celebra con un tutore, ma c'è anche il sigillo del capitano Luperto, chiuso dal quarto obiettivo blu dei più piccoli. Solo una rete di chiesa per il 31 ha fatto speranza in un ritorno allegri, che alla fine è apparso visibilmente scosso. Forse il momento più difficile stagione per le ambizioni della Juve.Champions League decisamente ridotta dopo la decisione corte d'appello. Alla decisione è arrivata durante il riscaldamento della razza Castellani. Forse non è esattamente una coincidenza l'inizio del gioco fosse importante per il bianconeri, quasi come reazione di rabbia tre opportunità d'oro in 15 minuti che sono accade a Vlaovic, Kostik e Milik, con il risultato potrebbe essere sbloccato immediatamente in favore dei ragazzi di Allegri. Insieme ecco il vantaggio blu il fallo di Milik su cambiaghi nella zona. Occasione per abbreviare Bremer da due passi e con lo specchio completamente aperto manda inspiegabilmente sul lato. Il rabbio è l'unico che cerca di fare qualcosa in concentrazione. Tocco sotto per il lardiare Empoli fa il superamento di Scesni.Juventus che prende il gioco del gioco, ma è più lasciato da Empoli cerca di schiacciarlo sul contre. In finale arriva il 31 della Chiesa, anche a causa un mezzo errore di Vicario, abituato a parare tutto questa volta la palla è forse più conveniente un gioco che lo ha visto ancora una volta il protagonista.1. Si canta per volare al Castellani, mentre Gianna Nannini fenomenale inizia il triplo fischio, proprio come era la stagione degli Empoli di Paolo Zanetti. Con la sconfitta per 41 a Empoli, la Juventus scivola al settimo posto in classifica, con 59 punti, ed è attualmente al di fuori dell'area che dà accesso alla Coppa Europa. Un altro risultato della P.